E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di All Tech Hobbies Oggi vi parlerò di una nuova funzionalità dell'ultima versione WhatsApp disponibile in App Store Ma non perdiamo tempo e cominciamo subito Ebbene sì ragazzi, questa nuova funzione di WhatsApp di cui vi parlerò in questo video La possiamo fare solo su dispositivi di Apple Ovvero i dispositivi iOS, iPhone, iPad e iPod Per cui ragazzi scaricatevi l'ultima versione di WhatsApp da App Store E procediamo con il tutorial su questa nuova funzione Questa nuova funzione di WhatsApp Messenger riguarda la possibilità di vedere i video di YouTube Direttamente all'interno della chat di WhatsApp Ed è una funzione veramente molto molto utile Perché vi consente di non aperire il player YouTube Ma di visualizzare il video all'interno di WhatsApp Vediamo adesso come funziona Utilizzando il mio cellulare Android Per inviare un link di un mio video YouTube Direttamente al mio iPhone Bene ragazzi, adesso apriamo l'app di YouTube sul cellulare Android E andiamo a cercare un video del mio canale Per farvi vedere come funziona questa nuova funzionalità In basso a destra troviamo l'app di YouTube Entriamo nel mio canale di Alltech Hobbies E cerchiamo il video sul centrifugato Che è un video molto molto breve Lo apriamo Lo fermiamo perché sennò parte la riproduzione del video stesso E clicchiamo su questa freccetta di condivisione Nella parte alta dello schermo Si aprirà un menu contestuale Condividi e scegliamo WhatsApp Scegliamo il destinatario, in questo caso il mio iPhone Eccolo E clicchiamo su il flag verde A questo punto prima di inviarlo Apro la chat sull'iPhone di WhatsApp Per farvi vedere che arriverà il link in contemporanea Inviamo Ecco come potete vedere Sull'iPhone è arrivato il link del mio video Adesso andiamo ad analizzare La finestra dell'iPhone Perché è quella che ci interessa Clicchiamo direttamente sul tasto di riproduzione Presente all'interno dell'immagine Per far riprodurre il video Si apre una finestra all'interno della chat di WhatsApp Che manderà in riproduzione il video stesso Ecco come potete vedere Il video si sta riproducendo All'interno della chat di WhatsApp Funzione nuovissima Credo uscita oggi in giornata Se clicchiamo sul video Possiamo fare diverse cose Possiamo fermare il video stesso Possiamo ingrandire l'immagine Qui va ruotato un attimo il telefono Per avere l'immagine più grande La chiudiamo Lo possiamo far ripartire E infine possiamo chiudere con la X In alto a sinistra il video stesso E questa è una funzione veramente molto comoda Perché fa sì che il video venga direttamente riprodotto All'interno della chat Senza andare a aprire l'applicativo YouTube Sull'iPhone Quindi un risparmio di risorse per l'iPhone stesso Quindi una funzione veramente molto positiva Ben accetta per WhatsApp Per cui il mio tutorial finisce qua Non ho altre cose da dire Perché era molto molto semplice Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando condividetelo su tutti i social network Soprattutto iscrivetevi al mio canale E mettete tanti vi piace E soprattutto mettete tanti mi piace Io vi aspetto al prossimo video Ciao